Bentornati a tutti sul mio canale, oggi è backstage time! Andiamo a fare le prime riprese, anzi non le primissime, ma le prime riprese punk rock and roll di Kayak Mare, zona Genova. C'è l'Ibeccio stanotte, domani insomma ci sarà un po' di onda intorno ai due metri. Però può essere molto molto figo perché comunque il Kayak Mare, anche proprio sotto costa lì vicino a Iscoi, può essere molto spettacolare. E con i ragazzi di Outdoor Portofino stiamo cominciando a collaborare per attrattare questa storia e questa attività. Beh là è bello, là c'è un bello schivone, guarda là! E' quello del Kenya. Sì sì. Bello! Sì, andiamo un po' in fuori e poi... Dicevo, se riusciamo ad andare in un punto in cui ci sono degli ondoni anche non proprio a ridosso degli scogli, ma un po' fuori, tipo a questa distanza, vorrei fare quella roba lì, ecco. Quelle labbra azzurre! Assiccio! Questa è una situazione molto molto punk, ma con questa barca non ci sono problemi, perché è una parte che abbiamo un super driver. Comunque è una zona in cui i ragazzi possono fare un po' di giochi, possono fare un po' di trick. Se volete continuare ancora qua a giocare, poi andiamo in là. Comunque è venuta bella roba qui. Adesso sto facendo un sentiero per riuscire ad arrivare a Punta e Chiappa, eccolo qua. Un pescatore che è appena naufragato, almeno quale. Questo è un ottimo punto d'osservazione, i ragazzi sono qua a fare esercizi sia di didattica sia di tecnica, salvataggio. Direi che questo mare è perfetto per oggi, è un posto un po' impervio. Dopo la mareggiata del 29 ottobre del 2018, prende questo pezzo di Liguria, ma un bel po' di Liguria è stata massacrata da una mareggiata che ha fatto onde fino a 10 metri. Questa lunga passeggiata, questo lungo cammino al bordo della strada è stato completamente distrutto. Lo stanno rifacendo, adesso siamo quasi a Pasquolo, lo stanno abbastanza recuperando, ma è impressionante. È stata proprio spazzata via la strada. Era un po' che non andavo in Liguria, ho potuto vedere quello che rimane di questa mareggiata disastrosa che ha colpito appunto la costa nell'ottobre dell'anno scorso, il danno è stato veramente disastroso. I Liguri però sono gente tosta, si stanno rimettendo in moto e stanno ripartendo appunto dal mare. Bene, questo era il Sea Kayak di Outdoor Portofino, sono ragazzi assurdi che fanno le preparazioni veramente allucinanti per tutto l'anno. Io vi invito a rimanere connessi su questo canale, sentiamoci su LinkedIn, sentiamoci su Facebook, sentiamoci qui su YouTube, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, potete seguire anche il blog igurinidia.it e noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, non mancate! Grazie a tutti!